Ciao ragazze, ben ritrovati sul mio canale e ben ritrovati in questo nuovo video allora finalmente Gabriele si è addormentato quindi posso finalmente girare il video mi sono arrivati praticamente due pacchettini oggi solo che ho deciso comunque di dividerli perché di Kenaprint ho preso un bel po' di adesivi quindi volevo dividerli e poi ho preso un altro ho fatto degli acquisiti da un nuovo negozio su Etsy ma ne parlerò nell'altro video allora mi è arrivato tutto confezionato alla perfezione in questo caso io sono riuscita ad avere anziché il 15% di sconto utilizzando praticamente i codici delle amiche di Kena non so bene se sono delle amministratrici del gruppo, del sito non lo so, non ho capito ancora però se si mette il proprio codice inerente alle amiche si riceve il 15% questa volta io ho trovato il 20% di sconto mi pare due settimane fa c'è da dire che questa volta mi sono arrivate veramente in brevissimo tempo cioè ci hanno messo tipo due settimane dal momento della spedizione di solito ci hanno messo anche un messetto abbondante per arrivare l'ordine di Kena Prince ma adesso vediamo il tutto comunque sia io nell'info box vi lascio il riferimento al sito e alla pagina facebook dove appunto potete eventualmente trovare potete trovare i codici sconto appunto da utilizzare questo pacchetto praticamente arriva dalle Filippine quindi ecco perché ci mette un bel po' di tempo comunque io riesco sempre a prendere qualcosina di più per quando ci sono appunto questi codici sconto maggiorati ecco diciamo in queste occasioni magari per qualcosa in più potete seguire io se riesco vi metto anche nell'info box il riferimento al loro profilo instagram io di solito gli sconti appunto li vedo per di più per lo più su instagram non so perché non chiedetemi perché ma riesco a vederli più di là che su facebook forse su facebook ho troppe più pagine che seguo allora io vorrei ma non vorrei quindi io lo lascio così come sta al massimo ecco apro qui allora questa volta ho preso anche un washi perché era da tanto tempo che ne volevo acquistare uno eccolo solo che non li avevo mai presi perché poi mi veniva troppo alta la spesa quindi ho sempre diciamo lasciato un po' stare ecco allora questa volta nell'ordine praticamente oh cosa sono queste cose? sono i pezzettini del merletto dicevo ma che sono queste cose? sono i pezzettini del merletto allora questa volta nell'ordine praticamente c'era in omaggio per tutti gli ordini di qualsiasi importo c'era in omaggio la bambolina del capodanno cinese infatti io l'avevo messo nel carrello poi sono andata a rileggere bene tutte le cose insomma tutti i vari post che c'erano su instagram e un po' su facebook io avevo visto per fortuna me ne sono accorta altrimenti l'avrei avuto doppio che c'era appunto il come si chiama? il die cut della bambolina che festeggia il capodanno cinese allora questa è la cartolina del momento eccola qui ho preso un bel po' di die cut allora questo qui è il washi tape che appunto ho preso ed è in versione rosa mi fa molto sailor moon con questo fiocco le stelline questa luna poi c'è anche il gatto luna il gatto di sailor moon ma penso che praticamente la maggior parte di noi sappiamo chi sia sailor moon appunto vedete c'è il coniglietto inerente appunto al nome di bunny e niente quindi l'ho voluto prendere oddio in fotografia sembrava un rosa un po' più chiaro invece bello scuro posso dire che sembra quasi un rosa carne con questi dettagli in foil in oro rosa non lo voglio aprire perché mi piace che lo devo tenere così quindi credo che lo conserverò non lo utilizzerò mai però c'è un bel po' di prodotto ecco credo che saranno sui tre metri può darsi non lo so non c'è scritto comunque dai mi piace la bambolina e quindi lo lasciamo qui allora è arrivato appunto il tutto in questa cartolina io praticamente ormai faccio le collezioni ne ho degli altri due ordini ho queste qui praticamente ho questa qui del telulite mi pare e poi l'altro ordine che avevo fatto era non rimpianti era questo qui il periodo quindi perché ci sono periodi in cui lui li mette tipo un tema qualcosa di questo tipo va bene andiamo subito a vedere che cosa ho preso quindi ho detto il cartoncino dove arriva appunto il tutto e questo qui la cartolina che ho scritto questo è il sito eventualmente che è una prince.com molto carina la stampa della bambolina allora questa qui è appunto il die cut che mi è arrivato in omaggio ah è un adesivo è un die cut adesivo ed è della bambolina che festeggia appunto il capodanno cinese allora questo deduco che sia sì siano degli omaggi eccole qui allora praticamente questa è lei la proprietaria diciamo del sito però ha creato anche degli altri diversi soggetti comunque lei è il soggetto principale lei è proprio Kena e ha messo anche ci ha messo degli omagini ha scritto anche ci ha messo questo qui per simboleggiare la nuova release degli altri adesivi di Kena Print troppo carini questo è un unico pezzo grande è un tipo stile Erin Condren bello poi è bella questa carta perché è carta lucida sembra tipo classificata ok allora questo è appunto l'omaggio adesso vi faccio vedere i die cut che ho preso ah ha messo anche degli altri omaggini mi ha messo anche questi altri omaggini questa è Kenaki questa bambolina si chiama Kenaki non so se è un'amica una sua invenzione non ho idea però è identica praticamente a a questa solo che è praticamente in versione castana quindi più o meno è lo stesso soggetto che fa le stesse cose con un colore diverso e c'è anche biondina mi pare comunque questi sono tutti i soggetti che lei ha creato questo è un die cut sempre adesivo e queste sono le amiche che fanno planning vi faccio vedere prima i die cut che ho preso questa qui sono tutti adesivi questi die cut questa mi pare si chiami oddio lola si mi sa lola poi abbiamo oddio questa non lo so come si chiama comunque c'è questa con i capelli arcobaleno e tutte tutte hanno un nome però io non conosco tutte per bene abbiamo questo adesivo di appunto kena con tutti i planner poi abbiamo lei alle prese con tutti i uoscini perché ho preso ho gli stickers di queste cose qui però non avevo i die cut e infine ho preso anche l'altra versione che credo si chiami lulita ma non ne sono sicura comunque di quelle diciamo io le chiamo le bambine fantastiche sono queste tre e poi ho preso questi die cut in questo modo ok allora le mettiamo qui insieme all'altro die cut allora poi ho preso questo foglio con kenaki che fa dei banner poi kenaki in tenuto a scolastica in tutti i colori dal rosa azzurro al giallo ho preso il periodo pasquale con tutte le kenaki con le uova di pasqua carine e poi ho preso questo con adesivi misti inerenti tutti comunque al caffè no questa mi piace troppissimo questa qui ho anche già il fogliettino con cioè ho proprio il fogliettino di stickers con tutte queste bamboline con tutte kenaki allora questi sono i fogliettini più grandi adesso vi mostro quelli in dimensione standard che sono quelli che prendo di solito questo ve lo lascio alla fine allora ho preso un foglio di questa qui che non mi ricordo come si chiama credo lola ripeto kenaki che va in piscina quindi che nuota poi ho preso kenaki che fa le pulizie purtroppo i miei adesivi si 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 bastano sempre sulle pulizie perché sono quelli che io utilizzo di più in quanto non lavorando quindi stando a casa faccio non faccio altro che pulire mettere in ordine pulire cioè io pulisco sul pulito io che faccio un massaggio al mio gatto poi kenaki selfie si chiamava proprio così selfie selfie time mi pare poi questa qui mentre si sta mettendo tipo la cipria che carino kenaki che spazza ne ho preso un bel po' perché io quando faccio gli ordini da kena cerco sempre di rifornirmi parecchio ora di questa ah c'è nell'altro sotto di questa qui io avevo la versione in in chena tutta con i capelli neri mi sono presa questa qui in versione kenaki poi questa qui che non so come si chiami in versione yankee candle che insomma si sta inalando le profumazioni la bambolina sempre con la tazzina di caffè troppo belli cuoricini che io pensavo fossero un pochettino più grandi invece sono proprio piccoli guardate la mia mano sono proprio piccini e vanno sono tipo color arcobaleno ecco sono carinissimi però poi ho preso dei banerini oddio delle targhettine non chiamiamoli proprio banerini con kenaki cuoricini poi abbiamo questo qui con i banerini e cuoricini sul color carne e rosa poi ho preso le tazzine queste sono delle nuove release almeno c'erano fra le new release quindi il bicchierozzo di non so milkshake caffè non lo so con la panna poi questo è un sacchiottone troppo tenero poi ho preso banni quindi coniglietta la tazzina anzi le tazzine questi fiocchettini con la parte finale pizzettata troppo carini guardate quanti ne sono e alla fine ho preso questo qui con i cap anzi non è finito ho preso questi cupcake con fragolina troppo kawaii molto belli infine una cosa che non avevo mai visto non ci avevo fatto mai caso perché comunque non conoscevo la serie dato che ho scoperto appunto da poco qualche mese da dicembre più o meno il trono di spade non poteva mancare la mia preferita la madre dei draghi quindi ho trovato la versione kawaii di Daenerys Targaryen con Drogo troppo bello cioè ditemi che cosa non sono queste madre di drago piccole piccole c'è troppo belli ragazze e mi sa che c'erano anche altri soggetti però non del trono di spade altrimenti penso che mi sarei presa a perlomeno Arya Arya Stark perché diciamo che le mie preferite al momento sono loro due sono Daenerys e Arya quindi questo è tutto appunto il mio acquisto io spero che vi sia piaciuto il mio video spero vi abbia tenuto compagnia ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere insomma che cosa ne pensate insomma di tutti questi bellissimi adesivi che io adoro ora devo trovargli la collocazione e credo che li metterò nell'album che ho ricevuto da Manuela Menozzi va bene vi saluto un bacio a tutte ci vediamo al prossimo video ciao ragazze